Mestre è convinta di dividersi, finalmente, perché questa è la grande novità. I tre quarti della popolazione dell'intero comune sono in terraferma. Questa nuova consapevolezza ci dà la forza di sperare anche per Venezia. Venezia e Mestre, Laguna e terraferma. Continua la raccolta firme da parte del movimento Mestre Venezia Grandi Città. L'obiettivo è il referendum per separare queste due realtà, sempre più distanti tra loro, come sostiene il movimento. In meno di due mesi hanno raccolto più di 5.000 firme delle 7.000 necessarie per la presentazione del progetto di legge. Il traguardo è vicino, ma a crederci devono essere anche i veneziani, anche se sembra non essere facile trovarne. La raccolta delle firme sta andando molto meglio a Mestre, perché a Venezia facciamo fatica anche a vedere dei veneziani in mezzo alle migliaia di turisti che passano. Ovunque noi ci posizioniamo, chiediamo e urliamo se ci sono dei veneziani e qualora ci fossero, siano interessati anche alla raccolta delle firme e ovviamente facciamo promozione. Cosa cambierebbe per i cittadini? Un risparmio di municipalità in ottica città metropolitana? Eliminando i consigli di municipalità e le municipalità avremo un risparmio di 12 milioni di euro. Se solo si conta che l'ufficio di gabinetto del sindaco costa 4 milioni e passa di euro, ecco queste sono delle spese folli che non hanno alcun senso.